60, sinistra 3 vai, 150, a vista, ai sassi, destra 2, da in fondo, destra 2, ai sassi, e a rail, sinistra 3, 2 tempi 3, 2 tempi, 50, a rail, sinistra 3 vai, 200, destri, 200, destri, ai cartelli rovesci, sinistra 3, lunga, ai cartelli rovesci, sinistra 3, lunga, qua 50, destra, sinistra 3 vai, 30, a rail, non sta a esagerare, accendo destro grazie